Di Gennaro è un ottimo portiere, ha fatto il suo lavoro e purtroppo ci siamo picchiati noi dentro, però posso solo dire che dispiace andare via senza punti perché credo che per la prestazione fatta in campo meritavamo qualcosa almeno. Soprattutto nel primo tempo, poi i primi 20 minuti del secondo tempo, però il Pescara è uscito bene con quel 4-3-3 un po' rimodellato. Sì, noi abbiamo avuto grandi occasioni nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo subito il secondo gol, ma poi abbiamo ripreso la palla, non abbiamo avuto timore riverenziale, abbiamo ritrovato la situazione sul rigore, poi noi eravamo già rimaneggiati, le forze vengono un po' a mancare e io tanti cambi non li avevo, quindi fai fatica a rialzare il ritmo e guardiamo avanti. Lei è arrivato da poco alla guida della Fermana, è una squadra in chiara crescita però. Ragazzi sono fantastici, la disponibilità che mi hanno dato è strepitosa all'eccesso, e sicuramente il tempo non è tanto, ma non è un alibi, dobbiamo lavorare come stiamo facendo e sicuramente i punti arriveranno. Mi dica un'ultima cosa prima di lasciarla, Riolfo Auteri, poco fa ai nostri microfoni, ha detto che nel primo tempo quelle parate di Di Gennaro erano figlie di errori, passaggi sbagliati del Pescara. Le chiedo quanto c'era di pressione studiata dei suoi giocatori sui centrocampisti del Pescara che hanno perso e vero la palla e poi però voi siete andati in area. No, mi devo dire che sia Graziano che Malik e Mbaye e Mezzo, oltre al lavoro dei tre attaccanti, è stato comunque importante e gli abbiamo forzato delle giocate dove forse loro non sono abbastanza preparati a farle. È brave a ripartire, brave a farci trovare dentro il portiere, un po' meno a non riuscire a concretizzarle. Però il calcio c'è chi sbaglia e chi riesce a concludere e chi invece in questo caso noi non ci siamo riusciti.